ciao a tutti in questo video parliamo di uno degli aspetti fondamentali di wikipedia ovvero il fatto che si tratta di un'enciclopedia collaborativa tutte le modifiche e le decisioni da prendere sono frutto infatti di regole decise dalla comunità e di accordi presi tra i contributori la domanda però sorge spontanea come fanno a contattarsi vari utenti dove e come si svolgono le discussioni ebbene forse non ancora noto a tutti ma ogni pagina dell'enciclopedia possiede una sua pagina di discussione ovvero uno spazio dedicato ai contributori per poter segnalare inesattezze o proporre miglioramenti questo vale sia per le voci dell'enciclopedia che per altre pagine di servizio ad esempio le pagine utente mentre navigate fra le voci dell'enciclopedia vi sarete accorti infatti che nella barra dei collegamenti posti in alto nella pagina è presente una scritta discussioni che rappresenta un collegamento alla propria pagina di discussione si tratta di una sorta di casella di posta personale nella quale gli altri utenti possono scrivervi per chiedervi pareri o avvisarvi di qualcosa attenzione però per quanto personale è comunque una pagina pubblica quindi visibile a tutti inoltre essendo uno spazio fornito da wikipedia non può essere gestito in maniera arbitraria ma bisogna comunque seguire alcune regole di base ad esempio non si inseriscono testi in violazione di copyright e non si cancellano i messaggi degli altri utenti quando qualcuno vi scrive nella vostra pagina di discussione riceverete una notifica che non potrà passarvi inosservata noterete infatti che il collegamento diventerà arancione e sull'icona delle notifiche comparirà un numerino rosso cliccando sulla segnalazione potete andare a leggere il messaggio che vi ha lasciato l'utente per rispondere potete scrivere nella sua pagina di discussione oppure inserire la vostra replica sotto il suo intervento per poter mantenere la discussione in un solo posto in questo caso dovete però avvisarlo inserendo un collegamento alla sua pagina utente quando scrivete il vostro discorso in questo modo l'utente riceverà una notifica per essere stato menzionato infine ricordate nelle pagine di discussione si scrive esattamente nello stesso modo in cui si scrive nelle voci dell'enciclopedia ma è necessario firmare il proprio intervento cliccando sull'icona apposita che trovate nella barra degli strumenti quel codice strano che comparirà una volta che salverete la pagina si trasformerà nel collegamento alla vostra pagina utente accompagnato dalla data e l'ora in cui avete inserito il contenuto queste informazioni sono valide quando gli utenti hanno necessità di iscriversi a vicenda ma per collaborare la stesura di una voce è quasi sempre necessario avere degli spazi di discussione comuni dove diversi utenti possono intervenire per decidere quali siano i miglioramenti più opportuni per le voci dell'enciclopedia bene come vi ho già detto ogni pagina dell'enciclopedia possiede una propria pagina di discussione un suo spazio dietro le quinte dedicato proprio a discutere di come migliorare quella voce o quella pagina per accedervi basta guardare tra le linguette poste in cima a ogni pagina e cliccare su quella che si trova a sinistra ho scritto discussione come vedete la pagina divisa in diverse discussioni inserite in ordine cronologico dalla più vecchia alla più recente in ognuna delle quali viene affrontato un argomento per modificare la pagina si fa esattamente come se stesse modificando una voce dell'enciclopedia e se volete iniziare una nuova discussione potete anche cliccare sulla linguetta aggiungi discussione posta in alto nella schermata andando poi a compilare la finestra che si aprirà quando scrivete nelle pagine di discussione ricordatevi di seguire i principi fondamentali della netiquette e della wikicat ovvero un comportamento educato collaborativo e costruttivo quindi rispettate gli altri interlocutori non scrivete in maiuscolo che equivale a urlare siate sufficientemente chiari e sintetici come già detto non cancellate i messaggi degli altri utenti e non inserite materiale protetto da copyright e soprattutto ricordate che wikipedia non è un forum dove inserire opinioni personali sul soggetto della voce le pagine di discussione devono limitarsi a ospitare solamente i dibattiti finalizzati a migliorare i contenuti della pagina dell'enciclopedia vari utenti possono quindi partecipare al dibattito esprimendo diverse opinioni sull'oggetto della discussione per stabilire la corretta decisione da prendere si dovrà arrivare una soluzione condivisa che tenga conto delle argomentazioni portate e della loro aderenza con i principi di wikipedia in particolare l'utilizzo di fonti autorevoli e il mantenimento di un punto di vista neutrale è quello che si chiama metodo del consenso su cui si basa tutto il processo di scrittura collaborativo di wikipedia in ogni caso a meno di situazioni particolari non si vota maggioranza la soluzione da adottare perché quello che è importante su wikipedia è il peso delle argomentazioni e non il numero degli utenti che portano avanti quando l'argomento di discussione più generale è conveniente aprire la discussione nei progetti tematici ovvero luoghi di coordinamento tra utenti interessati a determinati argomenti che discutono nelle pagine di discussione dei progetti chiamati bar tematici andando nella pagina che li elenca tutti si può cercare lo spazio di discussione più adatto per avanzare proposte o segnalazioni non legato a una voce specifica ma di carattere più generale su un determinato argomento che sia storia pallacanestro letteratura astronomia economia in questi bar tematici è possibile e spesso consigliato anche segnalare che è stata aperta una discussione in un'altra pagina per favorirne la partecipazione se invece l'argomento è ancora più generico è possibile rivolgersi al bar di wikipedia luogo di incontro in cui affrontare argomenti di interesse generale per l'intero progetto infine tenete presente che esistono spazi specifici dove poter fare richieste particolari ad esempio lo sportello informazioni per domande generali sul funzionamento di wikipedia particolarmente adatto per utenti che stanno muovendo i loro primi passi sull'enciclopedia oppure l'officina per segnalare malfunzionamenti del software o proporre modifiche tecniche c'è poi la biblioteca di wikipedia per essere aiutati da veri bibliotecari a riperire le fonti più adatte per scrivere le voci infine il laboratorio grafico dove potete richiedere a utenti esperti nella grafica di migliorare le immagini utilizzate nelle voci dell'enciclopedia quale che sia la pagina dove interverrete ricordate che spazi per una discussione aperta serene di incontro sono un aspetto fondamentale per un progetto che si basa sulla collaborazione fra i propri contributori un saluto quindi e una buona contribuzione sull'enciclopedia libera e collaborativa grazie a tutti grazie a tutti